Capitolo 1 Paolo, apostolo di Cristo Gesù per la volontà di Dio, e il fratello Timoteo, alla chiesa di Dio che è in Corinto, con tutti i santi che sono in tutta la caia, grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Benedetto sia i Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre delle misericordie, e lì Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché mediante la consolazione onde noi stessi siamo da Dio consolati, possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione. Perché come abbondano in noi le sofferenze di Cristo, così per mezzo di Cristo abbonda anche la nostra consolazione. Talche se siamo afflitti è per la vostra consolazione e salvezza, e se siamo consolati è per la vostra consolazione, la quale opera efficacemente nel farvi capaci di sopportare le stesse sofferenze che anche noi patiamo. E la nostra speranza di voi è ferma, sapendo che come siete partecipi delle sofferenze, siete anche partecipi della consolazione. Poiché, fratelli, non vogliamo che ignoriate circa l'afflizione che ci colse in Asia, che siamo stati oltremodo aggravati, al di là delle nostre forze, tanto che stavamo in grande dubbio anche della vita. Anzi, avevamo già noi stessi pronunciata la nostra sentenza di morte, affinché non ci confidassimo in noi medesimi, ma in Dio che risuscita i morti, il quale ci ha liberati e ci libererà da un così grande pericolo di morte, nel quale abbiamo la speranza che ci libererà ancora, aiutandoci anche voi con le vostre supplicazioni, affinché del favore ottenutoci per mezzo di tante persone, grazie siano rese per noi da molti. Questo, infatti, è il nostro vanto, la testimonianza della nostra coscienza che ci siamo condotti nel mondo, e più che mai, verso voi, con santità e sincerità di Dio, non con sapienza carnale, ma con la grazia di Dio. Poiché noi non vi scriviamo altro se non quello che leggete o anche riconoscete, e spero che fino alla fine riconoscerete, come in parte avete già riconosciuto, che noi siamo il vostro vanto, come anche voi sarete il nostro, nel giorno del nostro Signore Gesù. E in questa fiducia, per procurarvi un duplice beneficio, io volevo venire prima da voi, e passando da voi volevo andare in Macedonia, e poi dalla Macedonia venire di nuovo a voi, e da voi essere fatto proseguire per la Giudea. Prendendo dunque questa decisione, ho io agito con leggerezza? Ovvero le cose che delibero, le delibero io secondo la carne, tal che un momento io dica sì, sì, e l'altro no, no? Ora, com'è vero che Dio è fedele, la parola che vi abbiamo rivolta non è sì, e no. Perché il figliuolo di Dio, Cristo Gesù, che è stato da noi predicato fra voi, cioè da me, da Silvano e da Timoteo, non è stato sì, e no, ma è sì in Lui. Poiché quante sono le promesse di Dio, tutte hanno in Lui il loro sì. Perciò pure per mezzo di Lui si pronunzia l'amen alla gloria di Dio, in grazia del nostro ministerio. Ora colui che con voi ci rende fermi in Cristo, e che ci ha unti, è Dio, il quale ci ha pure segnati col proprio sigillo, e ci ha data la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Ora io chiamo il Dio a testimone sull'anima mia, che gli è per risparmiarvi che io non sono più venuto a Corinto. Non già che signoreggiamo sulla vostra fede, ma siamo aiutatori della vostra allegrezza, perché nella fede voi state saldi. Capitolo 2 Io avevo dunque con me stesso determinato di non venire a voi per rattristarvi una seconda volta, perché se io vi contristo, chi sarà dunque colui che mi rallegrerà, se non colui che sarà stato da me contristato? E vi ho scritto a quel modo, onde al mio arrivo io non abbia tristezza da coloro dai quali dovrei avere allegrezza, avendo di voi tutti fiducia che la mia allegrezza è l'allegrezza di tutti voi. Poiché, in grande afflizione e in angoscia di cuore, vi scrissi con molte lacrime, non già perché foste contristati, ma perché conosceste l'amore che nutro abbondantissimo per voi. Ora, se qualcuno ha cagionato tristezza, egli non ha contristato me, ma, in parte per non esagerare, voi tutti. Basta a quel tale la riprensione inflittali dalla maggioranza, onde ora, al contrario, dovreste piuttosto perdonarlo e confortarlo, che talora non abbia a rimanere sommerso da soverchia tristezza. Perciò vi prego di confermargli l'amore vostro, perché anche per questo vi ho scritto, per conoscere alla prova se siete ubbidienti in ogni cosa. Ora, a chi voi perdonate qualcosa, perdono anche io, poiché anche io quel che ho perdonato, se ho perdonato qualche cosa, l'ho fatto per amore vostro nel cospetto di Cristo, affinché non siamo soverchiati da Satana, giacché non ignoriamo le sue macchinazioni. Ora, essendo venuto a Troas per l'Evangelo di Cristo, ed essendomi aperta una porta nel Signore, non ebbi requie nel mio spirito, perché non vi trovai Tito mio fratello. Così, accomiatatomi da loro, partii per la Macedonia. Ma grazie siano rese a Dio, che sempre ci conduce in trionfo in Cristo, e che per mezzo nostro spande dappertutto il profumo della sua conoscenza. Poiché noi siamo dinanzi a Dio, il buon odore di Cristo, fra quelli che sono sulla via della salvezza, e fra quelli che sono sulla via della perdizione. A questi un odore di morte a morte, a quelli un odore di vita a vita. E chi è sufficiente a queste cose? Poiché noi non siamo come quelli che adulterano la parola di Dio, ma parliamo mossi da sincerità da parte di Dio, in presenza di Dio in Cristo. Capitolo 3 Cominciamo noi di nuovo a raccomandare noi stessi? O abbiamo noi bisogno, come alcuni, di lettere di raccomandazione presso di voi o da voi? Siete voi la nostra lettera, scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini, essendo manifesto che voi siete una lettera di Cristo, scritta mediante il nostro ministerio, scritta non con inchiostro, ma con lo spirito dell'Idio vivente, non su tavole di pietra, ma su tavole che sono cuori di carne. E una tale confidenza noi l'abbiamo per mezzo di Cristo presso Dio. Non già che siamo di per noi stessi capaci di pensare alcunché, come venendo da noi, ma la nostra capacità viene da Dio, che ci ha anche resi capaci di essere ministri di un nuovo patto, non di lettera, ma di spirito, perché la lettera uccide, ma lo spirito vivifica. Ora, se il ministerio della morte, scolpito in lettere su pietre, fu circondato di gloria, tal che i figliuoli di Israele non potevano fissare lo sguardo nel volto di Mosè, a motivo della gloria che pur svaniva del volto di lui, non sarà il ministerio dello spirito circondato di molto maggiore gloria? Se infatti il ministerio della condanna fu con gloria, molto più abbonda in gloria il ministerio della giustizia. Anzi, quello che nel primo fu reso glorioso, non fu reso veramente glorioso quando lo si confronti con la gloria di tanto superiore del secondo. Perché, se ciò che aveva da sparire fu circondato di gloria, molto più ad essere glorioso ciò che ha da adorare. Avendo dunque una tale speranza, noi usiamo grande franchezza, e non facciamo come Mosè, che si metteva un velo sulla faccia, perché i figliuoli di Israele non fissassero lo sguardo nella fine di ciò che doveva sparire. Ma le loro menti furono rese ottuse. Infatti, sino al di d'oggi, quando fanno la lettura dell'antico patto, lo stesso velo rimane, senza essere rimosso, perché è in Cristo che esso è abolito. Ma fino ad oggi, quando si legge Mosè, un velo rimane steso sul cuore loro. Quando però si saranno convertiti al Signore, il velo sarà rimosso. Ora, il Signore è lo Spirito, e dov'è lo Spirito del Signore, qui vi è libertà. E noi tutti, contemplando avviso scoperto, come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nell'istessa immagine di Lui, di gloria in gloria, secondo che opera il Signore che è Spirito. Capitolo 4 Perciò, avendo questo ministerio, in virtù della misericordia che ci è stata fatta, noi non veniamo meno nell'animo, ma abbiamo rinunziato alle cose nascoste e vergognose, non procedendo con astuzia, né falsificando la parola di Dio, ma mediante la manifestazione della verità, raccomandando noi stessi alla coscienza di ogni uomo, nel cospetto di Dio. E se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli, dei quali l'iddio di questo secolo ha accecato le menti, affinché la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio, non risplenda loro. Poiché noi non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù quale Signore, e quanta noi ci dichiariamo vostri servitori per amore di Gesù, perché l'iddio che disse «Splenda la luce fra le tenebre» è quello che risplendè nei nostri cuori, affinché noi facessimo brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio, che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché l'eccellenza di questa potenza sia di Dio e non da noi. Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo, perplessi, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, atterrati, ma non uccisi. Portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo, poiché noi che viviamo siamo sempre esposti alla morte per amore di Gesù, onde anche la vita di Gesù sia manifestata nella nostra carne mortale. Talché la morte opera in noi, ma la vita in voi. Ma siccome abbiamo lo stesso spirito di fede che è in quella parola della scrittura, «Ho creduto, perciò ho parlato», anche noi crediamo, e perciò anche parliamo, sapendo che colui che risuscitò il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci farà comparire con voi alla Sua presenza. Poiché tutte queste cose avvengono per voi, affinché la grazia, essendo abbondata, faccia sì che sovrabbondi, per bocca di un gran numero, il ringraziamento alla gloria di Dio. Perciò noi non veniamo meno nell'animo, ma quantunque il nostro uomo esterno si disfaccia, pure il nostro uomo interno si rinnova di giorno in giorno. Perché la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Capitolo 5 Noi sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra dimora terrena, viene disfatta, noi abbiamo da Dio un edificio, una casa non fatta da mano d'uomo eterna nei cieli. Poiché in questa tenda noi gemiamo, bramando di essere sopravvestiti della nostra abitazione che è celeste, seppur saremo trovati vestiti e non ignudi. Poiché noi che siamo in questa tenda gemiamo aggravati, e perciò desideriamo non già di essere spogliati, ma di essere sopravvestiti, onde ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Ora colui che ci ha formati per questo stesso è Dio, il quale ci ha dato la caparra dello Spirito. Noi siamo dunque sempre pieni di fiducia, e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore, poiché camminiamo per fede e non per visione. Ma siamo pieni di fiducia e abbiamo molto più caro di partire dal corpo ed abitare col Signore. Ed è perciò che ci studiamo di essergli grati sia che abitiamo nel corpo sia che ne partiamo, poiché dobbiamo tutti comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte quando era nel corpo, secondo quello che avrà operato o bene o male. Sapendo dunque il timore che si deve avere del Signore, noi persuadiamo gli uomini, e Dio ci conosce a fondo, e spero che nelle vostre coscienze anche voi ci conoscete. Noi non ci raccomandiamo di nuovo a voi, ma vi diamo l'occasione di gloriarvi di noi affinché abbiate di che rispondere a quelli che si gloriano di ciò che è apparenza e non di ciò che è nel cuore, perché se siamo fuori di senno lo siamo a gloria di Dio, e se siamo di buon senno lo siamo per voi, poiché l'amore di Cristo ci costringe. Perché siamo giunti a questa conclusione, che se uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono, e che egli morì per tutti, affinché quelli che vivono non vivano più per loro stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Talché da ora in poi noi non conosciamo più alcuno secondo la carne, e se anche abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora però non lo conosciamo più così. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. E tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ha dato a noi il ministerio della riconciliazione, in quanto che il Dio riconciliava con sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, e ha posto in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo come se Dio esortasse per mezzo di noi. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto essere peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Capitolo 6 Come collaboratori di Dio noi vi esortiamo pure a fare sì che non abbiate ricevuta la grazia di Dio in vano, poiché Egli dice, T'ho esaudito nel tempo accettevole e t'ho soccorso nel giorno della salvezza. Eccolo ora il tempo accettevole, eccolo ora il giorno della salvezza. Noi non diamo motivo di scandalo in cosa alcuna, onde il ministerio non sia vituperato, ma in ogni cosa ci raccomandiamo come ministri di Dio per una grande costanza, per afflizioni, necessità, angustie, battiture, prigionie, sommosse, fatiche, veglie, digiuni, per purità, conoscenza, lunganimità, benignità, per lo Spirito Santo, per carità non finta, per la parola di verità, per la potenza di Dio, per le armi di giustizia a destra e a sinistra, in mezzo alla gloria e all'ignominia, in mezzo alla buona e alla cattiva reputazione, tenuti per seduttori eppure veraci, conosciuti eppure ben conosciuti, moribondi eppure eccoci viventi, castigati eppure non messi a morte, contristati eppure sempre allegri, poveri eppure arricchendo molti, non avendo nulla eppure possedendo ogni cosa. La nostra bocca vi ha parlato apertamente, o Corinzi, il nostro cuore si è allargato, voi non siete allo stretto in noi, ma è il vostro cuore che si è ristretto. Ora, per renderci il contraccambio, parlo come a figlioli, allargate il cuore anche voi. Non vi mettete con gli infedeli sotto un gioco che non è per voi, perché quale comunanza vegli fra la giustizia e l'iniquità, o quale comunione fra la luce e le tenebre, e quale armonia fra Cristo e Beliar, o che vedi comune fra il fedele e l'infedele, e quale accordo fra il Tempio di Dio e gli idoli, poiché noi siamo il Tempio dell'iddio vivente, come disse Dio, io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Perciò, uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di immondo, ed io vi accoglierò e vi sarò per padre e voi mi sarete per figliuoli e per figliuole, dice il Signore Onnipotente. Capitolo 7 Poiché dunque abbiamo queste promesse diletti, purifichiamoci di ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Fateci posto nei vostri cuori. Noi non abbiamo fatto torto ad alcuno, non abbiamo nuociuto ad alcuno, non abbiamo sfruttato alcuno. Non lo dico per condannarvi, perché ho già detto prima che voi siete nei nostri cuori per la morte e per la vita. Grande è la franchezza che uso con voi. Molto ho da gloriarmi di voi. Sono pieno di consolazione. Io trabocco d'allegrezza in tutta la nostra afflizione. Poiché anche dopo che fummo giunti in Macedonia la nostra carne non ha avuto requie alcuna, ma siamo stati afflitti in ogni maniera. Combattimenti di fuori di dentro timori. Ma il Dio che consola gli abbattuti ci consolò con la venuta di Tito, e non soltanto con la venuta di lui, ma anche con la consolazione da lui provata a vostro riguardo. Egli ci ha raccontato la vostra bramosia di noi, il vostro pianto, il vostro zelo per me, onde io mi sono più che mai rallegrato. Poiché quando anche io vi abbia contristati con la mia epistola, non me ne rincresce, e seppure ne ho provato rincrescimento, poiché vedo che quella epistola quantunque per un breve tempo vi ha contristati, ora mi rallegro non perché siete stati contristati, ma perché siete stati contristati a ravvedimento, poiché siete stati contristati secondo i Dio, onde non aveste a ricevere alcun danno da noi, poiché la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento che mena alla salvezza e del quale non c'è mai da pentirsi, ma la tristezza del mondo produce la morte. Infatti, questo essere stati contristati secondo Dio, vedete quanta premura ha prodotto in voi, anzi, quanta giustificazione, quanto sdegno, quanto timore, quanta bramosia, quanto zelo, quale punizione. In ogni maniera avete dimostrato di essere puri in questo affare. Sebbene dunque io vi abbia scritto, non è a motivo di chi ha fatto l'ingiuria, né a motivo di chi l'ha patita, ma perché la premura che avete per noi fosse manifestata presso di voi nel cospetto di Dio. Perciò siamo stati consolati e oltre a questa nostra consolazione ci siamo più che mai rallegrati per l'allegrezza di Tito, perché il suo spirito è stato ricreato da voi tutti. Che se mi sono in qualcosa gloriato di voi con lui non sono stato confuso, ma come vi abbiamo detto in ogni cosa la verità, così anche il nostro vanto di voi contito è risultato vero, ed egli vi ama più che mai svisceratamente quando si ricorda dell'ubbidienza di voi tutti e come l'avete ricevuto con timore e tremore. Io mi rallegro che in ogni cosa posso avere fiducia in voi. Capitolo 8 Ora, fratelli, vogliamo farvi sapere la grazia da Dio concessa alle chiese di Macedonia. In mezzo alle molte afflizioni con le quali esse sono provate, l'abbondanza della loro allegrezza e la loro profonda povertà hanno abbondato nelle ricchezze della loro liberalità. Poiché io ne rendo testimonianza, secondo il potere loro, anzi, al di là del potere loro, hanno dato volenterosi, chiedendoci con molte istanze, la grazia di contribuire a questa sovvenzione destinata ai Santi. E lo hanno fatto non solo come avevamo sperato, ma prima si sono dati loro stessi al Signore e poi a noi per la volontà di Dio, tal che abbiamo esortato Tito che come l'ha già cominciata, così porti a compimento fra voi anche questa opera di carità. Ma siccome voi abbondate in ogni cosa, in fede, in parola, in conoscenza, in ogni zelo e nell'amore che avete per noi, vedete di abbondare anche in questa opera di carità. Non lo dico per darvi un ordine, ma per mettere alla prova con l'esempio dell'altrui premura anche la schiettezza del vostro amore, perché voi conoscete la carità del Signor nostro Gesù Cristo, il quale essendo ricco si è fatto povero per amore vostro, onde mediante la sua povertà voi poteste diventare ricchi. E qui vi do un consiglio, il che conviene a voi, i quali fino dall'anno passato avete per i primi cominciato non solo a fare ma anche a volere. Portate ora a compimento anche il fare, onde, come ci fu la prontezza del volere, così ci sia anche il compiere secondo i vostri mezzi, poiché se c'è la prontezza dell'animo essa è gradita in ragione di quello che uno ha e non di quello che non ha, poiché questo non si fa per recare sollievo ad altri ed aggravio a voi ma per principio di uguaglianza. Nelle attuali circostanze la vostra abbondanza serve a supplire al loro bisogno onde la loro abbondanza supplisca altresì al bisogno vostro affinché ci sia uguaglianza secondo che scritto chi aveva raccolto molto non ebbe il soverchio e chi aveva raccolto poco non ebbe mancanza. Ora sia ringraziato il Dio che ha messo in cuore a Tito lo stesso zelo per voi poiché non solo egli ha accettata la nostra esortazione ma mosso da zelo anche maggiore si è spontaneamente posto in cammino per venire da voi e assieme a lui abbiamo mandato questo fratello la cui lode nella predicazione dell'Evangelo è sparsa per tutte le chiese non solo ma egli è stato anche eletto dalle chiese a viaggiare con noi per quest'opera di carità da noi amministrata per la gloria del Signore stesso e per dimostrare la prontezza dell'animo nostro evitiamo così che qualcuno abbia a biasimarci circa questa abbondante colletta che è da noi amministrata perché ci preoccupiamo di agire onestamente non solo nel cospetto del Signore ma anche nel cospetto degli uomini e con loro abbiamo mandato quel nostro fratello del quale spesse volte e in molte cose abbiamo sperimentato lo zelo e che ora è più zelante che mai per la grande fiducia che ha in voi quanto a Tito egli è mio compagno e collaboratore in mezzo a voi quanto ai nostri fratelli essi sono gli inviati delle chiese e gloria di Cristo date loro dunque nel cospetto delle chiese la prova del vostro amore e mostrate loro che abbiamo ragione di gloriarci di voi capitolo 9 quanto alla sovvenzione destinata ai santi è superfluo che io ve ne scriva perché conosco la prontezza dell'animo vostro per la quale mi glorio di voi presso i macedoni dicendo che la caia è pronta fino dall'anno passato e il vostro zelo ne ha stimolati moltissimi ma ho mandato i fratelli onde il nostro gloriarci di voi non riesca vano per questo rispetto affinché come dissi siate pronti che se talora venissero con me dei macedoni e vi trovassero non preparati noi per non dire voi non avessimo ad essere svergognati per questa nostra fiducia perciò ho reputato necessario esortare i fratelli a venire a voi prima di me e preparare la vostra già promessa liberalità onde essa sia pronta come atto di liberalità e non di avarizia ora questo io dico chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente e chi semina liberalmente mieterà altresì liberalmente dia ciascuno secondo che ha deliberato in cuore suo non di malavoglia né per forza perché il dio ama un donatore allegro e dio è potente da fare abbondare su di voi ogni grazia affinché avendo sempre in ogni cosa tutto quello che vi è necessario abbondiate in ogni opera buona siccome è scritto egli ha sparso egli ha dato ai poveri la sua giustizia dimora in eterno ora colui che fornisce al seminatore la semenza e il pane da mangiare fornirà e moltiplicherà la semenza vostra e accrescerà i frutti della vostra giustizia sarete così arricchiti in ogni cosa onde potere esercitare una larga liberalità la quale produrrà per nostro mezzo rendimento di grazie a dio perché la prestazione di questo servizio sacro non solo supplisce ai bisogni dei santi ma più ancora produce abbondanza di ringraziamento a dio in quanto che la prova pratica fornita da questa sovvenzione li porta a glorificare il dio per l'ubbidienza con cui professate il vangelo di cristo e per la liberalità con cui partecipate ai bisogni loro e di tutti e con le loro preghiere a provostro essi mostrano di essere mossi da vivo affetto per voi a motivo della sovrabbondante grazia di dio che è sopra voi ringraziato sia dio del suo dono ineffabile capitolo 10 io poi paolo vi esorto per la mansoitudine e l'amitezza di cristo io che quando sono presente fra voi sono umile ma quando sono assente sono ardito verso voi vi prego di non obbligarmi quando sarò presente a procedere arditamente con quella sicurezza onde fo conto d'essere audace contro taluni che ci stimano come se camminassimo secondo la carne perché sebbene camminiamo nella carne non combattiamo secondo la carne infatti le armi della nostra guerra non sono carnali ma potenti nel cospetto di dio a distruggere le fortezze poiché distruggiamo i ragionamenti ed ogni altezza che si eleva contro alla conoscenza di dio e facciamo prigione ogni pensiero traendolo all'ubbidienza di cristo e siamo pronti a punire ogni disubbidienza quando la vostra ubbidienza sarà completa voi guardate all'apparenza delle cose se uno confida dentro di sé di essere di cristo consideri anche questo dentro di sé che come egli è di cristo così siamo anche noi poiché quando anche io mi gloriassi un po' di più dell'autorità che il signore ci ha data per la edificazione vostra e non per la vostra rovina non ne sarei svergognato dico questo perché non paia che io cerchi di spaventarvi con le mie lettere di fatti dice taluno ben sono le sue lettere gravi e forti ma la sua presenza personale è debole e la sua parola è cosa da nulla quel tale tenga questo per certo che quali siamo a parole per via di lettere quando siamo assenti tali saremo anche affatti quando saremo presenti poiché noi non osiamo annoverarci o paragonarci con certuni che si raccomandano da sé i quali però misurandosi alla propria stregua e paragonando sé con se stessi sono senza giudizio noi invece non ci glorieremo oltre misura ma entro la misura del campo di attività di cui Dio ci ha segnato i limiti dandoci di giungere anche fino a voi poiché non ci estendiamo oltre il dovuto quasi che non fossimo giunti fino a voi perché fino a voi siamo realmente giunti col Vangelo di Cristo e non ci gloriamo oltre misura di fatiche altrui ma nutriamo speranza che crescendo la fede vostra noi senza uscire dai nostri limiti saremo fra voi ampiamente ingranditi in guisa da poter evangelizzare anche i paesi che sono al di là del vostro e da non gloriarci entrando nel campo altrui di cose belle e preparate ma chi si gloria si glori nel Signore poiché non colui che raccomanda se stesso è approvato ma colui che il Signore raccomanda capitolo undici o quanto desidererei che voi sopportaste da parte mia un po' di follia ma pure sopportatemi poiché io sono geloso di voi di una gelosia di Dio perché vi ho fidanzati ad un unico sposo per presentarvi come una casta vergine a Cristo ma temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia così le vostre menti siano corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purità rispetto a Cristo infatti se uno viene a predicarvi un altro Cristo diverso da quello che abbiamo predicato noi o se si tratta di ricevere uno spirito diverso da quello che avete ricevuto o un Vangelo diverso da quello che avete accettato voi ben lo sopportate ora io stimo di non essere stato in nulla da meno di codesti sommi apostoli che seppure sono rozzo nel parlare tale non sono nella conoscenza e l'abbiamo dimostrato fra voi per ogni rispetto e in ogni cosa ho io commesso peccato quando abbassando me stesso perché voi foste innalzati vi ho annunziato l'Evangelo di Dio gratuitamente ho spogliato altre chiese prendendo da loro uno stipendio per potere servire voi e quando durante il mio soggiorno fra voi mi trovai nel bisogno non fui da gravio a nessuno perché i fratelli venuti dalla Macedonia supplirono al mio bisogno e in ogni cosa mi sono astenuto e mi asterrò ancora dall'esservi di aggravio come è vero che la verità di Cristo è in me questo vanto non mi sarà tolto nelle contrade della caia perché forse perché non vi amo lo sa il Dio ma quello che fo lo farò ancora per togliere ogni occasione a coloro che desiderano un'occasione affinché in quello di cui si vantano siano trovati uguali a noi poiché codestitali sono dei falsi apostoli degli operai fraudolenti che si travestono da apostoli di Cristo e non c'è da meravigliarsene perché anche Satana si traveste da angelo di luce non è dunque granché se anche i suoi ministri si travestono da ministri di giustizia la fine loro sarà secondo le loro opere lo dico di nuovo nessuno mi prenda per pazzo o se no anche come pazzo accettatemi onde anch'io possa gloriarmi un poco quello che dico quando mi vanto con tanta fiducia non lo dico secondo il Signore ma come impazia da che molti si gloriano secondo la carne anche io mi glorierò di fatti voi che siete assennati vi sopportate volentieri i pazzi che se uno vi riduce in schiavitù se uno vi divora se uno vi prende il vostro se uno si innalza sopra voi se uno vi percuote in faccia voi lo sopportate lo dico a nostra vergogna come se noi fossimo stati deboli eppure in qualunque cosa uno possa essere baldanzoso parlo da pazzo sono baldanzoso anche io sono essi ebrei lo sono anch'io sono essi israeliti lo sono anche io sono essi progenie di abramo lo sono anche io sono essi ministri di cristo parlo come uno fuori di sé io lo sono più di loro più di loro per le fatiche più di loro per le carcerazioni assai più di loro per le battiture sofferte sono spesso stato in pericolo di morte dai giudei cinque volte ho ricevuto quaranta colpi meno uno tre volte sono stato battuto con le verghe una volta sono stato lapidato tre volte ho fatto naufragio ho passato un giorno e una notte sull'abisso spesse volte in viaggio in pericoli sui fiumi in pericoli di ladroni in pericoli per parte dei miei connazionali in pericoli per parte dei gentili in pericoli in città in pericoli nei deserti in pericoli sul mare in pericoli tra falsi fratelli in fatiche ed in pene spesse volte in veglie nella fame e nella sete spesse volte nei digiuni nel freddo e nella nudità e per non parlare di altro c'è quello che mi assale tutti i giorni l'ansietà per tutte le chiese chi è debole che io non sia debole chi è scandalizzato che io non arda se bisogna gloriarsi io mi glorierò delle cose che concernono la mia debolezza lì dio e padre del nostro signore gesù che è benedetto in eterno sa che io non mento a damasco il governatore del re areta aveva posto delle guardie alla città dei damasceni per pigliarmi e da una finestra fui calato in una cesta lungo il muro e scampai dalle sue mani capitolo 12 bisogna gloriarmi non è cosa giovevole ma pure verrò alle visioni e alle rivelazioni del signore io conosco un uomo in cristo che 14 anni fa se fu col corpo non so ne so se fu senza il corpo il dio lo sa fu rapito fino al terzo cielo e so che quel tale se fu col corpo o senza il corpo non so il dio lo sa fu rapito in paradiso e udì parole ineffabili che non è lecito all'uomo di proferire di quel tale io mi glorierò ma di me stesso non mi glorierò se non nelle mie debolezze che seppure volessi gloriarmi non sarei un pazzo perché direi la verità ma me ne astengo perché nessuno mi stimi al di là di quello che mi vede essere ovvero ode da me e perché io non avessi ad insuperbire a motivo della eccellenza delle rivelazioni mi è stata messa una scheggia nella carne un angelo di satana per schiaffeggiarmi onde io non insuperbisca tre volte ho pregato il signore perché l'allontanasse da me ed egli mi ha detto la mia grazia ti basta perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze onde la potenza di cristo riposi su me per questo io mi compiaccio in debolezze in ingiurie in necessità in perseguzioni in angustie per amore di cristo perché quando sono debole allora sono forte sono diventato pazzo siete voi che mi ci avete costretto poiché io avrei dovuto essere da voi raccomandato perché in nulla sono stato da meno di codesti sommi apostoli benché io non sia nulla certo i segni dell'apostolo sono stati manifestati in atto fra voi nella perseveranza a tutta prova nei miracoli nei prodigi ed opere potenti in che siete voi stati da meno delle altre chiese se non nel fatto che io stesso non vi sono stato da gravio perdonatemi questo torto ecco questa è la terza volta che sono pronto a recarmi da voi e non vi sarò da gravio poiché io non cerco i vostri beni ma voi perché non sono i figlioli che debbono fare tesoro per i genitori ma dei genitori per i figlioli e io molto volentieri spenderò e sarò speso per le anime vostre se io vi amo tanto devo essere da voi amato meno ma sia pure così che io non vi sia stato di aggravio ma forse da uomo astuto vi ho presi con inganno mi sono io approfittato di voi per mezzo di qualcuno di quelli che io vi ho mandato ho pregato tito di venire da voi e ho mandato quell'altro fratello con lui tito si è forse approfittato di voi non abbiamo noi camminato col medesimo spirito e seguito le medesime ormè da tempo voi vi immaginate che noi ci difendiamo dinanzi a voi egli è nel cospetto di dio in cristo che noi parliamo e tutto questo diletti per la vostra edificazione poiché io temo quando verrò di trovarvi non quali vorrei e di essere io stesso da voi trovato quale non mi vorreste temo che vi siano fra voi contese gelosie ire rivalità maldicense insinuazioni superbie tumulti e che al mio arrivo lì dio mio abbia di nuovo ad umiliarmi dinanzi a voi ed io abbia a piangere molti di quelli che hanno per lo innanzi peccato e non si sono ravveduti della impurità della fornicazione e della dissolutezza a cui si erano dati capitolo 13 questa è la terza volta che io vengo da voi ogni parola sarà confermata dalla bocca di due o di tre testimoni ho avvertito quando ero presente fra voi la seconda volta e avverto ora che sono assente tanto quelli che hanno peccato per l'innanzi quanto tutti gli altri che se tornerò da voi non userò indulgenza già che cercate la prova che Cristo parla in me Cristo che verso voi non è debole ma è potente in voi poiché egli fu crocifisso per la sua debolezza ma vive per la potenza di Dio e anche noi siamo deboli in lui ma vivremo con lui per la potenza di Dio nel nostro procedere verso di voi esaminate voi stessi per vedere se siete nella fede provate voi stessi non riconoscete voi medesimi che Gesù Cristo è in voi a meno che proprio siate riprovati ma io spero che riconoscerete che noi non siamo riprovati ora noi preghiamo il Dio che non facciate alcun male non già per apparire noi approvati ma perché voi facciate quello che è bene anche se noi abbiamo da passare per riprovati perché noi non possiamo nulla contro la verità quel che possiamo è per la verità poiché noi ci rallegriamo quando siamo deboli e voi siete forti e i nostri voti sono per il vostro perfezionamento perciò vi scrivo queste cose mentre sono assente affinché quando sarò presente io non abbia a procedere rigorosamente secondo l'autorità che il Signore mi ha data per edificare e non per distruggere del resto fratelli rallegratevi procacciate la perfezione siate consolati abbiate un medesimo sentimento vivete in pace e l'iddio dell'amore e della pace sarà con voi salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio tutti i santi vi salutano la grazia del Signore Gesù Cristo e l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi